Grazie Presidente. Questo è un argomento che ovviamente la maggioranza sta seguendo con moltissima attenzione. Noi abbiamo iniziato un percorso dove abbiamo individuato la gara a doppio oggetto come lo strumento ottimale per poter dare una soluzione che possa salvaguardare l'occupazione e allo stesso tempo permettere a questa città di poter avere un servizio di qualità. Abbiamo avuto delle osservazioni dall'autorità garante del mercato sul quale stiamo facendo delle valutazioni. Noi riteniamo che comunque questo sia il percorso migliore che si deve portare avanti e pertanto noi voteremo negativamente a questa mozione. Voglio dire che per quanto riguarda i licenziamenti individuati da molti servizi su ATAC in realtà questi sono dei passaggi di appalto e invece per quanto riguarda i 30 licenziamenti degli impiegati è attiva in questo momento una procedura di sospensione di questa procedura di licenziamento. Noi stiamo ponendo una grandissima attenzione a questo tema e continueremo a farlo. Grazie.